Un oasi di pace e tranquillità al Cazzano di Tramigna, il posto ideale per banchetti, cerimonie, feste private e eventi speciali. Da Corte Verze godrete della miglior cucina artigianale e dei più bei panorami delle valli di Verona, un mix speciale che saprà davvero stupirvi. La nostra filosofia fa sentire l'ospite come fosse a casa, fare sentire i profumi al nostro cliente e i nostri profumi del territorio, della terra, trasformati dalla nostra azienda agricola. Prodotti molto semplici ma con sapidità autentiche del territorio. Disponiamo inoltre delle camere, delle suite bellissime decorate da un artista diverso dall'altro e la suite del vino è dedicata agli sposi perché gli sposi si godono fino alle luci del mattino, fanno festa con noi, con l'open bar e i fuochi d'artificio. La nostra struttura non fa solo matrimoni ma fa eventi di tutte le cerimonie, di tutti i tipi, naturalmente supernotazione. Disponiamo inoltre di un plateatico esterno e di una sala interna con cammino in mezzo alla stanza dove l'ospite dentro e fuori può godersi anche del verde e della natura. Corte Verzè si trova in via Cambran 5 a Cazzano di Tramigna. Per prenotare il tuo evento visita il sito corteverzè.it Corte Verzè si trova in via Cambran 5 a Cazzano di Tramigna.